L'esagro di strada e delle animazioni divenuti negli anni sempre più frequenti mi tornarono molto utili nel momento in cui mi trovavo a confronto con classi numerose e con tempi decisamente brevi Anche la capacità di calcolare e sfruttare gli imprevisti e le situazioni negative a proprio vantaggio mi sembrava funzionare con successo sia durante gli spettacoli che durante le lezioni scolastiche Nello stesso periodo ho lavorato come operatore di piccolo circo per ludoteche e associazioni Mi ha scatarrato sull'arico Talvolta progettando anche da solo piccoli laboratori sulla giocoleria o la manipolazione di palloncini per bambini e adulti Vabbè io penso che possa bastare per voi No, cauccio! Passiamo a collusione e leggiamo l'ultima pagina No, leggiamo l'ultima pagina e poi ripassiamo a Muccina Sound System Muccina Sound System C'è una poesia La poesia, la poesia La poesia Leggiamo questa e poi c'è il pacco libero No, no, c'è la legge e la conclusione No, rumpo i coglioni per uscire Conclusione Non fosse la laurea tua Ecco Conclusione perché ne è una